E' finito ai domiciliari un ventenne per gli eventi che si erano verificati la sera del 15 novembre a 7K nella zona del parco giochi vicino al cimitero. In quella circostanza, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, due fazioni opposte di bande di giovani si erano date appuntamento per chiarire un diverbio legato a motivi di droga. Un membro di una delle due bande, travisato e armato di pistola, dopo aver esploso alcuni colpi a scopo intimidatorio, ne aveva esploso uno colpendo un ragazzo all'addome senza procurargli lesioni che potevano essere letali. L'applicazione della misura coercitiva da parte dell'autorità giudiziaria di Vicenza ha trovato riscontro sulla base della successiva attività investigativa svolta dall'ufficio di Viale Mazzini, coordinata dalla locale procura della Repubblica. Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito l'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti del ventenne.